Vai! 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 Sì! Gol del Milan! Visto figliano? Forza Milan, papà! Tutto suo padre! Mamma, io esco! Dove vai? Con chi? Fumano? Bevono? Gruppo sanguigno? Zucchino nel sangue? E... papà, io esco. Ciao. Non se ne parla, tu sei ancora piccola per il cellulare. Beh, dove l'ho andata ora? E se l'ho andata a prendere in camera? Spacca. Ho la razza. Bravo, Grigliolo. L'hai già portata a letto? Papi, papi, lo sai Grigliolo, ragazzo? Cosa? Non dirmi che ci sei già stato a letto. Allora, Grigliolo, ti è piaciuta la PlayStation? Sì, papà. Sono appena arrivato al quarto livello. Sì, ma mica puoi stare sempre qui davanti alla PlayStation. Vai sotto a giocare, su. Va bene. Sì, la PlayStation tutta per me. Ciao, sono Peppa Pig. E questo è il mio papà Pig. ha, ha, ha! Ma quale uomo ragno? Ma quale Patman? Chisera Power Ranger! È mio papà Grazie a tutti.